Trovare la propria strada è un'avventura. Su Citroën C3 Aircross. Più spazio, più possibilità. A gennaio da 13.950 euro. Citroën. Ben tornati da Andrea qua in Cittadella dell'Auto. Benvenuti in questo 2020. Siamo qua a Bergamo in via Zanica 58. Sono qua in compagnia di Lara, la mia collega. Siamo per presentarvi tutte le nuove iniziative di gennaio. Non perdetele lì fermi che sono delle iniziative straordinarie. Prima offerta dell'anno. Partiamo con Peugeot. Partiamo con Peugeot 308. Station Wagon in questo caso, allestimento Allur, che è un allestimento che ormai sicuramente conoscete. Praticamente parliamo di un'auto completa di anticollisione, cerchi in lega da 17, clima automatico, navigatore, bluetooth. Tutti chiaramente i dati tecnici di questa vettura poi li potete trovare sul nostro sito internet www.cittadelladellauto.it. Auto del 2018 con solamente 15.000 km, cambio automatico, motore chiaramente 1530 cavalli. Lara, prezzo esclusivo di questo 2020 17.900 euro. Vettura proposta con finanziamento tasso 4,90, anticipo 0 e mini rate mensili da 179 euro al mese. Siamo partiti subito alla grandissima. Continuiamo con il percorso in casa Peugeot e il percorso in casa Peugeot 308. Altra proposta, una delle tantissime opportunità che abbiamo perché di 308 station ne abbiamo all'infinito. Sempre vettura del 2019 in questo caso, allestimento però business, quindi qualche accessorio in meno, ma sempre una vettura completissima, sensori, navigatore, bluetooth, cerchi in lega, clima automatico. Pochissimi chilometri anche per questa vettura, che parliamo di un'auto che ha solamente 20.000 km, prezzo esclusivo 15.900 euro. Avete capito benissimo, è solamente 15.900 euro per questa fantastica 308 SV. Anche lei chiaramente finanziabile, sempre con anticipo 0 e mini rate mensili da 159 euro al mese. Passiamo in casa Citroën, partiamo subito con questo magnifico Jumpy 9 posti, 2150 CV del 2019 con solamente 3.000 km. Auto praticamente direi nuova, è una vettura con navigatore, sensori, bluetooth, clima automatico, presa USB, ripeto con 9 posti, prezzo ed esemplare unico 25.900 euro. Per tutto il mese di gennaio, se acquisti questa vettura, hai un extra sconto di 1.000 euro se rottami il tuo vecchio Euro 3 o Euro 2 o Euro 1 o Euro 0. 1.000 euro di sconto, quindi totale chiave in mano, 24.900 euro, un'auto che trovi solo da noi qua in Ghinzani Store. Spazio famiglia comfort, parliamo di C4 Picasso. In questo caso è una vettura con cambio automatico, abbiamo anche per questo veicolo un'ampia disponibilità di prodotti in pronta consegna, di vetture in pronta consegna, in allestimento sia Phil che Shine, sia cambio manuale che cambio automatico. Motore in questo caso 1.6 diesel, 120 CV con cambio AT6, auto che ha percorso poco più di 25.000 km, vettura sempre del 2019, prezzo proposto per questa vettura è di 17.900 euro. Sempre continuiamo sulla gamma Citroen, l'extra sconto di 1.000 euro se finanziate l'acquisto e rottamate il vostro vecchio usato, quindi questa Sprint da C4 Picasso diversamente nuova, la potete portare via a solamente 16.900 euro. Comfort, spazio, versatilità, parliamo di C5 Aircross, modello Shine in questo caso, motore 1.5 diesel, cambio manuale, vettura del 2019. Anche per quest'auto abbiamo ampia disponibilità sia di allestimenti che di motorizzazioni. Abbiamo sia il modello 1.5 130 CV diesel Euro 6 di Temp, che i 1.2 130 CV. Prezzo a partire da 24.900 euro. Tutte le vetture da noi qua in salone disponibili le trovate sul nostro sito, che lo ricordo, www.cittadelladellauto.it Prezzo a partire da 24.900 euro. Anche per questa vettura, come per tutto il resto della gamma Citroen, extra sconto di 1.000 euro si acquistano rottamando il vecchio Euro 3 e finanziando l'acquisto qui da noi. Quindi prezzo riservato 23.900 euro. Passiamo a una vettura idonei neopatentati, Citroen C3, Citroen C3 Shine in questo caso, allestimento con climatizzatore automatico, sensore di parcheggio, connettività col proprio telefono, chiaramente fendinebbia, bluetooth, presa USB, insomma è la versione Shine, la versione più ricca di particolari accessori. In questo caso la vettura ha solamente 13.000 chilometri, presentata in color orange power, ripeto, 1.282 cavalli, prezzo esclusivo Ginziani Store 12.900 euro. La vettura è interamente finanziabile, con anticipo zero e la possibilità di avere rate da 129 euro al mese. Solamente 129 euro al mese. Presentata, come vi ho detto, nel colore orange power, ma abbiamo la possibilità di avere tantissime opportunità sia di allestimenti che di colori. A partire da 10.900 euro abbiamo C3 Diesel e C3 Benzina Euro 6. Continuiamo in casa Citroen, Citroen Cactus 1210 cavalli oppure 1.600 diesel 100 cavalli. Questa è l'ampia disponibilità che abbiamo oggi nel parco auto. Tutte vetture in allestimento Shine, tutte vetture del 2019. Chilometraggio che va dai 10 al massimo 20.000 chilometri. In questo caso presentiamo una C3 Shine Diesel 1.600 cavalli con cerchio 17, navigatore, interno bicolor con sedile comfort, telecamera, presa USB, pacchetto con grip control e gomme 4 stagioni, vetri privacy posteriori, insomma una vettura veramente ricca di particolari accessori, prezzo di listino che supera i 25.000 euro. e noi proponiamo solamente un prezzo unico a solamente 16.500 euro. Tutte le nostre Cactus le trovate sempre sul nostro sito internet dove potete, io ricordo, eventualmente prenotare la vettura, simulare una rata del vostro finanziamento oppure contattarci direttamente e venire a provare su strada la vettura che avete selezionato. Passiamo nuovamente in casa Peugeot perché ci stavamo per dimenticare, ma non possiamo farlo, di questa fantastica 508 allestimento Allure motore 1530 cavalli. Parliamo della nuova 508, una vettura del 2019, qui presentata nel colore grigio Hurricane, con, chiaramente, tutti gli accessori possibili e immaginabili sia di sicurezza che di comfort, navigatore, sensori, telecamere, anticollisione, antisuperamento di carreggiata, cruise control attivo, auto che supera il listino abbondantemente di 40.000 euro, che noi proponiamo a un prezzo unico di 27.900 euro. Unico esemplare disponibile in pronta consegna, parliamo della nuova 508 berlina 1.5 di tempo. Passiamo a parlare di crossover di SUV, partiamo subito con la prima occasione, Peugeot 2008, ampia disponibilità anche per questa vettura, sia in allestimento diesel che benzina, motorizzazione entrambe Euro 6, parliamo dei 1.5 130 cavalli diesel o dei 1.5 100 cavalli e parliamo dei 1.2 benzina 130 cavalli. Tutte le vetture in allestimento all'UR, cambio manuale, in questo caso con pacchetto grip control, cerchiera 17, clima automatico, sensori di parcheggio, bluetooth, navigatore, auto ad esempio questa con 9.000 km, solamente 9.000 km, prezzo esclusivo di 16.500 euro. Sempre per tutto il mese, valida l'operazione commerciale che abbiamo visto anche in casa Citroen, extra sconto di 1.000 euro se si finanzia l'acquisto qui da noi. Quindi questa splendida 2008 la potete portare via con solamente 15.500 euro. Abbiamo appena parlato del crossover 2008, in anteprima vi dico che stanno per arrivare nel mese di gennaio, 5 splendide 3008 allure GT Line, entrambe in motorizzazione 1.500 diesel, a un prezzo che non vi dico ma dovete scoprire sul nostro sito internet. Vetture su tutte vetture del 2019 con cambio automatico EAT8. Per oggi abbiamo finito l'Ara, abbiamo presentato un sacco di occasioni e io direi che ricordo sempre il nostro sito www.cittadelladellauto.it e vi ricordo che Ghinzanistò la trovate qui a Bergamo in via Zanica 58 a due passi dal casello dell'autostrada. Io direi che abbiamo terminato, possiamo salutare, vi aspettiamo alla prossima puntata, un abbraccio e una buona serata. Rimaniamo in ambito di multispazio, di comfort, di comodità, di comfort e comodità è la stessa cosa, quindi possiamo ripetere, grazie. Rimaniamo nell'ambito della... Benzina, chiaramente, è il motore 1230 cavalli. Anche per questa vettura abbiamo un'ampia disponibilità sia in allestimento benzina. Dai, dai, dai! Forza, vado! Come sarà l'auto del futuro? Avrà affari che sembrano i denti di un leone. I denti di un leone? Sì! Potrà volare? Ma dai, però avrà una strumentazione 3D per avere sempre tutto sotto controllo. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio... Così! Ma non si sente nulla. Esattamente! Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208 Peugeot Per chi? Per chi? Per chi? Per chi? Grazie a tutti